La pagina Facebook Il Trono di Sagre, ideata e curata da Giuseppe Corvo e Giuseppe Falco, ha promosso un contest sul social incentrato sulle sagre dell'estate 2019, chiedendo agli utenti quale sagra fosse piaciuta di più tra tutte quelle svoltesi durante l'estate passata. Dopo varie sfide a colpi di like, il contest ha visto il pluri apprezzato evento di San Gregorio Magno, Baccanalia, vincitore del primo premio Il Tegamino d'Oro. La premiazione è avvenuta domenica 24 novembre a San Gregorio Magno, nella splendida cornice delle grotte di Via Bacco, dove, appunto, si tiene Baccanalia. Tra gli ospiti, oltre al sindaco, al presidente ed altri membri del consiglio di amministrazione della BCC, Buccino Comuni Cilentani, partner ufficiale della manifestazione, erano presenti gli ideatori del contest, la prologo di Castellabate, classificata al secondo posto, e l'associazione culturale Il Punto, di Stio, che ha raggiunto il terzo posto. Per l'occasione, si è ricreata una piccola atmosfera di Baccanalia, con degustazione di prodotti tipici e bumbino, tra le musiche del gruppo folclorico gregoriano e la Oper Bacco Band. L'obiettivo della prologo di San Gregorio Magno, attraverso Baccanalia ed altri eventi, è di creare un ponte tra i paesi vicini, per promuovere l'offerta turistica attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico, che caratterizza il territorio, recuperando il ventaglio di tradizioni, che sono l'identità culturale e sociale. Presidente, la BCC di Buccino Comuni Cilentani, vicino a Baccanali, è già da due anni, un grande partner, è oggi questa vittoria? Io direi che vince il territorio e Baccanali sicuramente vince un concorso, ma se di concorso si può parlare, però penso che sia il nostro territorio nel complesso che vede una valorizzazione dei nostri prodotti e delle iniziative di giovani di prologo che con molto sacrificio tendono a far conoscere i nostri territori e questo penso sia un format importantissimo perché noi abbiamo la necessità di far conoscere i nostri territori e le nostre eccellenze e quindi oggi siamo lieti di festeggiare ma soprattutto di poter ancora una volta dichiarare che con l'impegno, con la passione e soprattutto con le sinergie si riescono poi a fare iniziative e a promuovere il nostro territorio. Noi abbiamo la necessità di fare in modo che queste manifestazioni non siano soltanto un momento di incontro e di festa ma siano anche delle opportunità economiche. Penso che con la programmazione e soprattutto con tavoli di confronto penso che noi sia un format veramente molto buono perché poi alla fine sono migliaia le persone che riescono a venire nei nostri posti e quindi poi è bello diciamo che la nostra banca è una banca che va dal Cilento, San Gregorio Magno, Buccino quindi vedere che ci sono più paesi che fanno parte del nostro territorio di competenza Sio, Castellabate, San Gregorio Magno. Ci fa capire che l'unione che abbiamo fatto tra le banche è poi anche un'unione di territori e quindi oggi la festa è una festa complessiva di territorio di una parte del sud Italia che fa capire che c'è altro oltre alle notizie negative che spesso ci vedono un po' coinvolti. Noi siamo altro e lo possiamo dichiarare con grande orgoglio però dobbiamo valorizzarla ancora meglio. La banca è vicina a questo tipo di percorso, alla valorizzazione, siamo ben lieti di un tavolo permanente per far tramutare queste belle iniziative che da sagre e iniziative enocastronomiche invece diventino delle opportunità economiche e di conoscenza dei nostri territori.